Avere il piriforme infiammato è una situazione abbastanza usuale. Che cos'è? Come si cura? Ne parliamo con la dottoressa Galasso. Oggi in modo frequente sentiamo parlare di infiammazione del piriforme. Che cos'è? Qual è il suo distretto anatomico? Quali sono le cause? E come ovviamente andare a curare questo tipo di infiammazione? Il piriforme è un muscolo piccolo dell'anca collocato dietro il grande gluteo e svolge un'importante funzione nella rotazione dell'anca e nei movimenti verso l'esterno di tutto l'arto inferiore. La sindrome di questo muscolo, ovvero del piriforme, si manifesta quando il muscolo stesso diventa più grande e rigido e va ad irritare o comprimere il nervo sciatico a seguito di un trauma. Tutto questo provoca un dolore localizzato a livello del gluteo ma può estendersi sino al nervo sciatico provocando dolore, formicolio, debolezza lungo la gamba fino al piede. La sindrome di questa muscolatura, quindi del piriforme, solitamente viene causata da un trauma o dalla caduta sulla natica, sull'anca o anche sulla parte inferiore della schiena e spesso viene confusa con un problema lombare o un'irritazione nel nervo sciatico, anche perché non è una patologia molto conosciuta. Per guarire fondamentalmente è necessario ridurre la pressione che viene esercitata dal muscolo piriforme e quindi ovviamente sul nervo sciatico. La sindrome stessa del piriforme colpisce soprattutto, principalmente come un po' spesso accade, le donne, e solitamente si manifesta a sinistra anche se in alcune occasioni può essere comunque bilaterale. Le cause che scatenano l'infiammazione del piriforme sono il trauma al gluteo, anca o alla schiena, uno sforzo comunque eccessivo, un movimento violento, un'anomalia muscolare con ipertrofia, un'anomalia dei nervi, un appoggio errato del piede, una fibrosi, un'eccessiva attività fisica, il piede pronato, i disturbi posturali, la distorsione della caviglia, quindi sono veramente tantissime le cause che possono provocare l'infiammazione del piriforme. Tra i sintomi ovviamente più frequenti abbiamo un dolore intenso nella zona del glutei e delle natiche, la debolezza muscolare, il formiculio, l'intorpidimento, la limitazione dei movimenti articolari dell'anca. Il dolore tendenzialmente aumenta quando si salgono e si scendono le scale, mentre tutti gli altri sintomi tendono comunque a peggiorare quando si svolgono attività fisiche, dopo aver mantenuto comunque a lungo tempo una posizione seduta, quando ovviamente si accavallano le gambe e quando ci si gira praticamente nel letto. I medi per andare a in qualche modo eliminare l'infiammazione del piriforme sono praticamente, esistono diversi test per fare questo, il fire test che serve a valutare il ritardo della condizione del nervo sciatico, una neurografia, una risonanza magnetica che evidenzia l'infiammazione e altri diversi test. Dopo aver diagnosticato praticamente questo tipo di infiammazione, quindi questa malattia, è necessario procedere con i seguenti trattamenti, antinfiammatori, infiltrazioni, ultrasuoni e massaggio, tecarterapia, stretching, impacchi caldo-freddi o elettroterapia. È importante comunque poi svolgere una buona comunque attività fisica di modo che lo stesso muscolo possa essere comunque riportato e sollecitato in allungamento. Quindi è necessario e importante capire e quindi fare una diagnosi precisa dell'infiammazione del piriforme perché è un fenomeno che produce una sintomatologia simile ad altre condizioni che comunque si evolvono poi in una sciatalgia. Quindi la cosa importante e fondamentale in primis è la diagnosi, altrimenti poi rischiamo di non ovviamente risolvere il problema. Grazie a tutti.